Come va? Tutto bene? Come ti chiami? Mattia. Mattia ti faccio un piccolo pensierino e poi a Natale ti do quello grosso, grosso. Mi raccomando però, fai il bravo bambino, non fare arrabbiare i genitori, va bene? Mangia sempre, mangia. Perché se non mangi ti mangio io. La fine è lunghissima, vediamo. No, è troppa. Come va? Tutto bene? Non mi pare? Perché ci do i bambini poi devo tornare a fare il rifornimento. Non mi pare che va tutto bene. Come stai? Come ti chiami? Nicola sta guardando, sta decidendo se accettarlo o tirartolo in faccia. Sì, non lo so. Nicola, non ti preoccupare che a Natale ti preparo, ti porto dei regali molto più belli, molto più importanti. Stai tranquillo, va bene? Va bene? Ci è andata bene. Sì. Eccolo, ancora questa, dopo devo ancora andare a prenderne altri. La baby paint, fammeli entrare, li vorrei vedere. E mi sembra che siamo stati di parola. Sì, sì, sì. Allora, se mi fate un applauso alla baby band, alla babbo band, Baby, io ho detto, alla babbo band, sono contento. Più forte l'applauso, altrimenti niente regalini, bambini. Un applauso. Avete già dei fans? Buon Natale. Più forte l'applauso alla mamma. 炎istica. Buon Natale. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti